Governo al lavoro su possibili restrizioni in Italia anche dopo la Pasqua in zona rossa. Potrebbe esserci infatti una mini proroga delle insure dei divieti per arginare la diffusione del covid e delle sue varianti, ma con spiragli che potrebbero portare a una riapertura almeno parziale della scuola. Mentre alcune regioni, tra cui Lombardia e Lazio, sperano in una parentesi di qualche giorno in zona arancione prima della nuova chiusura di Pasqua, tra i dossier caldi sul tavolo di Mario Draghi si fa allargo quello delle prossime misure anti-coronavirus da assumere. Il decreto in vigore scadrà subito dopo le vacanze pasquali, il 6 aprile. La settimana prossima si terrà una cabina di regia con le forze di maggioranza per decidere il da farsi, visto che il Premier vuole che gli italiani non vengano colti impreparati, avvisandoli per tempo debito. Il Presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi vertici del CTS Silvio Brusaferro e Franco Locatelli e il Ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo anche il capitolo, sentitissimo, della scuola. Un incontro preliminare con un occhio attento ai contagi e alla curva epidemiologica, con il bollettino che ieri ha segnato 551 morti e un tasso di positività del 5,9%. Nulla è ancora deciso, ma tra le ipotesi che circolano con insistenza c'è quella di una mini-proroga delle misure attualmente in vigore, allargando le maglie della stretta al capitolo scuola, ovvero consentendo il ritorno sui banchi in zona rossa almeno ai più piccoli, scuola dell'infanzia e primaria, superando il giro di vite deciso al governo Draghi con il DPCM dello scorso 2 marzo. Ma è ancora prematuro parlarne, benché ci sia un fronte ampio in maggioranza che chiede a gran voce di riaprire i cancelli, con il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che intanto assicura che il governo ce la sta mettendo tutta. Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire, ha detto incontrando comuni e province. Il Ministro dell'Economia Daniele Franco si è detto fiducioso su un miglioramento della situazione sanitaria nel Paese dopo Pasqua. Per questo l'idea di una mini proroga di una settimana o dieci giorni potrebbe essere la strada da battere. È necessario parallelamente accelerare il più possibile la campagna vaccinale, con il commissario Francesco Figliuolo pronto a entrare in azione per superare le difficoltà sul territorio, con una mano tesa alle regioni che chiederanno supporto per accelerare. Una spinta che potrebbe essere fornita al nuovo vaccino per giunta monodose in arrivo, quello di Johnson & Johnson, atteso ad aprile, che potrebbe essere destinato inizialmente agli over 80 e ai più fragili.